21 operatori sanitari israeliani prestano da una settimana la loro opera nell'ospedale Covid di Verduno in Piemonte dove hanno celebrato l'inizio della festa ebraica dell'Hannukkah. Il servizio è di Caterina Cannava. Ha un valore simbolico universale. La fiamma accesa sul candelabro sacro all'interno di un ospedale Covid squarcia l'oscurità di un anno di dolore. È il rito con cui gli ebrei celebrano Hanukkah, appunto la festa delle luci. Una tradizione millenaria che diventa segno di un impegno comune contro il Covid. Qui nel cuore del Piemonte, nell'ospedale di Verduno, tra Alba e Bra, dove da una settimana sono impegnati 21 sanitari dello Sheba Hospital Medical Center del distretto di Tel Aviv, tra i 10 migliori ospedali al mondo. Cerimonia solenne in collegamento il premier israeliano Netanyahu, presente l'ambasciatore in Italia. Questa festa di Hanukkah con la festa di Natale è insieme anche un simbolo di amicizia tra due popoli, tra due culture, tra due religioni. Anche dà una speranza per i prossimi mesi dopo la pandemia. I vertici regionali accolgono la delegazione nell'ospedale simbolo aperto proprio per fronteggiare la pandemia. La collaborazione è destinata a durare nel tempo una fiammella che resterà accesa.